Le idee del colonnello Se devo dire la verità, disse il colonnello Laporte, sono vecchio, ho la cotta, le gambe rigide come i pali di un recinto, eppure se una femmina, una bella femmina, mi desse l'ordine di passare attraverso la cruna di un ago, io credo che ci passerei come un acrobata in un cerchio, morrò così, c'erò nel sangue, sono un vecchio amatore, io, della vecchia scuola, la vista di una femmina, di una bella femmina mi rimescola tutto, ecco, del resto qui in Francia siamo tutti un po' così, signori miei, siamo ancora cavalieri, cavalieri dell'amore e dell'avventura, dopo aver soppresso Dio di cui eravamo per davvero le guardie del corpo, ma, madonna, attenzione, quella non riusciremo mai a cacciarla dai nostri cuori, lei vi regna e vi regnerà, lamiamo e lameremo, commetteremo per lei ogni pazzia, finché esisterà una Francia sulla carta d'Europa, e se anche riusciranno a far sparire la Francia, rimarranno sempre le donne francesi, per conto mio, davanti agli occhi di una femmina, mi sento capace di tutto, perdi un civacco, quando sento penetrarmi dentro il suo sguardo, quello sguardo assassino che mette il fuoco nelle vene, mi viene voglia di fare chissà che, di battermi, di fare la lotta, di fracassare mobili, dimostrare che sono io il più forte, il più coraggioso, il più audace e il più devoto tra tutti gli uomini, ma non sono davvero l'unico, tutto l'esercito francese è con me, ve lo giuro, dal soldatino di fanteria al generale, quando si tratta di donne, noi andiamo avanti sino in fondo, purché sia bella, una donna bella sul serio, ricordatevi quel che ci ha fatto fare una volta Giovanna d'Arco, ecco qui, scommetto che se una donna, una bella donna, alla vigilia di Sedan, quando fu ferito il maresciallo Mac Mahon, avesse preso il comando dell'esercito, saremmo stati noi a sfondare le linee prussiane per dirindina, altro che un trochu ci voleva a Parigi, ma una santa Genevieve, mi ricordo appunto di un piccolo episodio bellico, un episodio che dà la prova di come noi siamo capaci di tutto di fronte a una donna, ero allora un semplice capitano, semplice capitano, comandavo un distaccamento di esploratori che batteva in ritirata in mezzo a una zona invasa dai prussiani, eravamo prossimi ad essere accerchiati, inseguiti, senza morale, avviliti, sul punto di crepare per sfinimento e per fame, dovevamo assolutamente raggiungere prima del giorno seguente Barsur Tain, altrimenti saremmo stati tagliati fuori e annientati, in che modo avevamo potuto sfuggire sino ad allora, non lo so, c'erano dodici leghe da percorrere, di notte, dodici leghe sulla neve e sotto la neve a stomaco vuoto, da parte mia, pensavo, è finita, questi poveracci dei miei soldati non ce la faranno mai ad arrivare, dal giorno prima non avevamo mangiato niente, per tutta la giornata rimanemmo nascosti in una capanna, stretti gli uni agli altri per vincere il freddo, incapaci di parlare, quasi di muoverci, dormendo tra scossoni e sussulti, come ci si riposa quando si è stanchi morti dalla fatica, alle cinque era già notte, quella notte scialba delle giornate di neve, scossi i miei uomini, molti non volevano alzarsi, incapaci di reggersi in piedi, intirizziti del freddo e dal resto, la pianura s'allungava davanti a noi, una maledetta pianura senza alberi, a perdita d'occhio, e nevicava, come un sipario, vedevamo quei grandi fiocchi che nascondevano tutto sotto una pesante coltre gelata, spessa e inerte, come un materasso di lana ghiacciata, sembrava il giorno della fine del mondo, i soldati guardavano la neve, la polvere bianca che cadeva dall'alto, sembrava pensassero, adesso ne abbiamo abbastanza, tanto vale morire qui, allora estrassi la pistola, il primo che esita lo fulminò, cominciarono a minare pian piano, come persone che abbiano le gambe anchilosate, ne mandai quattro in esplorazione, 300 metri avanti agli altri, il resto li seguì disordinatamente a gruppi o in ordine sparso, a seconda della stanchezza e della lunghezza dei passi, feci restare indietro i più resistenti, con l'ordine di spingere avanti coloro che ritardavano la marcia, ficcandogli la baionetta nella schiena, sembrava che la neve volesse sotterrarci tutti, si imbiancava cappotti e berretti, ma non vi si scioglieva, si trasformava in fantasmi, in una specie di spettri di soldati esausti e morti, pensavo, non riusciremo a uscire di qui, a meno che non accada un miracolo, a volte eravamo costretti a fermarci per qualche minuto, a causa di coloro che non ce la facevano venirci dietro, non si percepiva allora che il fruscio incerto della neve, quel rumore appena afferrabile che fanno i fiocchi quando vanno ammassandosi, qualche soldato si scuoteva, altri rimanevano inerti, detti l'ordine di ripartire, sulle spalle tornarono ad appoggiarsi i fucili, il distaccamento si rimise in marcia con un passo estenuato, d'improvviso tornarono indietro gli esploratori, qualcosa li aveva allarmati, avevano sentito parlare qualcuno avanti a loro, mandai in esplorazione un sergente e sei soldati, attesi, un tratto un grido acuto, un grido di donna attraversò il pesante silenzio della neve e qualche attimo dopo mi furono condotti due prigionieri, un vecchio e una ragazza, interrogai a voce bassa, stavano scappando davanti ai prussiani che avevano occupato ubrianchi la loro casa nella serata precedente, il padre aveva temuto per la figliuola e allora senza neanche avvertire i servi erano scappati entrambi nell'oscurità, mi regi conto subito che si trattava di due borghesi e forse anche di classe elevata, dissi ci accompagnerete, riprendemmo il cammino, poiché il vecchio era pratico di quei luoghi ci fece da guida, la neve cessò di cadere, apparvero le stelle e il freddo diventò ancora più pungente, la ragazza che era aggrappata al braccio del padre camminava a sbalzi con l'andatura barcollante di chi sta per svenire, mormorò più di una volta non sento più i miei piedi, io soffrivo più di lei alla vista di quella poverina che si trascinava in quel modo tra la neve, a un certo momento lei si fermò dicendo sono così stanca babbo che non ce la faccio più ad andare avanti, il vecchio tentò di portarla a lui ma non riusciva nemmeno a sollevarla, lei allora si accasciò a terra con un gran sospiro, i soldati facevano cerchio tutti intorno, quanto a me pestavo i piedi senza riuscire a prendere una decisione e senza decidermi ad abbandonare l'uomo e la ragazza, fu allora che uno dei miei soldati, un parigino che avevo soprannominato il praticone esclamò, camerati dobbiamo trasportare questa signorina altrimenti non siamo più francesi, per dio, e credo di aver bestemmato anch'io dalla contentezza, forza ragazzi farò anch'io la mia parte, nell'ombra si scorgevano incerti sulla sinistra gli alberi d'un boschetto, qualcuno si allontanò e tornò poco dopo con un fascio di rami e tornò poco dopo con un fascio di rami, legato in modo da farne una barella, chi è che può prestare un cappotto, gridò il praticone, amici serve per una bella ragazza, dieci pestrani andarono a cadere accanto al soldato, in un attimo la ragazza venne avvolta e adagiata tra quegli indumenti tiepidi e sollevata su sei spalle, ero messo in testa, ben contento, parola d'onore, da avere la mia parte di peso, riprendemmo il cammino come se avessimo bevuto un bicchiere di vino, più baldenzosi, più allegri, udì persino qualche spiritosaggine, bastò una donna, vedete, per scuotere e rianimare i francesi, i soldati avevano riordinato le file, pareva che si fossero riscaldati, un vecchio franco tiratore che seguiva la lettica in attesa del suo turno sussurrò al vicino a voce abbastanza alta perché io potessi udirlo, io non sono più giovane, ma mi basta la presenza di una donna per farmi risentire che sono un uomo, perdiana, camminammo quasi senza fermarci sino alle tre del mattino, poi improvvisamente gli esploratori tornarono ancora indietro e in un momento tutto il distaccamento sdraiato sulla neve era sparito, diventando un'ombra incerta sul terreno, spetti alcuni ordini sotto voce e udì alle mie spalle il crepitio secco e metallico dei fucili che venivano caricati, in lontananza al centro della pianura si stava muovendo qualcosa di strano, pareva un'enorme bestia in corsa che si allungava come un serpente e subito si riattorcigliava con slanci improvvisi ora a destra ora a sinistra per poi fermarsi prima di scattare di nuovo, intanto quella forma in movimento sarà avvicinata a noi, vedi arrivare in gran corsa uno dietro l'altro dodici ulani smarriti in cerca di orientamento, erano così vicini ad esso che si sentiva distintamente il soffio sbuffante dei cavalli, il tintinnio delle armi e lo scricchiolare delle selle, gridai fuoco, cinquanta fucilate ruppero il silenzio notturno, poi partirono ancora quattro o cinque detonazioni e infine una isolata, l'ultima, quando le nube accecante del fumo si dissipò vedemmo i dodici uomini e nove dei loro cavalli distesi sulla neve, tre animali erano fuggiti in un galoppo furioso e uno di essi trascinava dietro di sé il cadavere del cavaliere appeso allo sperone, dietro di me un soldato rideva d'un riso tremendo, un altro disse ce ne saranno ora di vedove, forse era un ammogliato, un terzo aggiunse non ci vuole molto, dalla lettica si rasporta una testa, che cosa succede, c'è un combattimento, risposi, non c'è niente signorina, abbiamo spedito all'altro mondo una dozzina di prussiani, lei mormorò, poveretti, ma poiché aveva freddo scomparve di nuovo sotto i cappotti, riprese la marcia e camminammo ancora a lungo, finalmente il cielo incominciò a schiarire, la neve diventava chiara, luminosa, lucida e un colore roseo riempiva l'orizzonte, da lontano una voce gridò, chi va là, il distaccamento si fermò e io proseguì avanti per farmi riconoscere, eravamo arrivati alle linee francesi, appena fui davanti all'avamposto un comandante che avevo messo al corrente della situazione, vedendo passare la barella domandò ad alta voce, che cosa avete lì? Appave subito una testina bionda, spettinata e sorridente, rispose, sono io signore, un coro di risate proruppe dai soldati e nei cuori tornò la gioia, allora il praticone che marzava a fianco alla lettiga agitò il berretto e gridò, VIVO LA FRANCIA! E non so perché, mi sentii commosso nel profondo, era un bell'episodio, pieno di galanteria, vedete, mi sembrava che avessimo salvato il paese, che avessimo fatto qualche cosa che gli altri non sarebbero stati capaci di fare, qualcosa di semplice eppure profondamente patriottico, quel vicino di ragazza non lo scorderò mai e se dovessi dare il mio parere sulla soppressione dei tamburi e delle trombe, proporrei di sostituirli in tutti i reggimenti con una bella ragazza, sarebbe anche meglio che suonare la marsigiese, mondo cane, come terrebbe testo il soldatino il fatto di avere una madrina fatta così, una madrina viva e al fianco del colonnello, per qualche attimo rimase in silenzio, poi scotendo la testa riprese con aria molto convinta, è inutile, vogliamo un gran bene alle donne, noi francesi.